La statua dell'Ariosto è stata ricollocata nella mattinata di giovedì 9 maggio nella sua posizione originaria sulla colonna al centro di Piazza Riostea. La scultura che raffigura il grande poeta era stata spostata poco più di 5 mesi fa per permetterne il restauro. La colonna sarà nuovamente visibile al pubblico entro la fine di maggio come anticipato dall'architetto del servizio infrastrutture del comune di Ferrara, Angela Ghiglione. Oggi finalmente siamo nelle condizioni di far tornare la statua dell'Ariosto sul suo basamento in cima alla colonna. Sono state completate tutte le operazioni di restauro e di consolidamento soprattutto delle gambe, delle parti basse della statua che erano gravemente compromesse da delle fratture, delle lesioni che si erano verificate nel tempo. Abbiamo completato adesso l'imbragaggio della statua, sono state fatte le prime prove e ora siamo pronti per far ritornare a Riosto nella sua posizione. Da lì, una volta collocato, dovranno essere solo completate le velature di finitura sulla statua che però necessitano di condizioni climatiche particolari. Quindi se nei prossimi giorni continua a piovere o un'alta umidità bisognerà aspettare un po'. Siamo comunque fiduciosi che entro maggio si provvederà a smontare tutte le impalcature e a restituire alla città colonna e statua nella nuova versione pulita e restaurata soprattutto.